Trovati bene. Prof, allora, mentre vai a sederti noi andiamo a scoprire quindi il perché parliamo di Marco Ferrante stasera, lo fa per noi Fabio Milano, perché? Perché dopo domani fa 41 anni, ma soprattutto è il quinto bomber granata con 125 gol e il prof se ne è proprio andato via, andato via, evidentemente non gli piace Ferrante, chi lo sa? Fabio Milano, andiamo a scoprirlo. Ci sono, ci sono. Ben più sostanziosa in termini di durata la tormentata storia in Granata di Marco Ferrante. Altro goleador di razza, classe cristallina e fiuto del gol come pochi altri. Cambiano i compagni di reparto, saltano le panchine degli allenatori, si alternano i presidenti, ma l'unica costante del toro nel decennio a cavallo tra la metà degli anni 90 e quella degli anni 2000 sono proprio i suoi gol. Giocatore dall'indiscusso carattere indossa per un'intera stagione la casacca numero 94, per ricordare al suo presidente, con cui era in aperto contrasto, il numero di reti segnate fino a quel momento in maglia Granata. Grazie a tutti. Auguri Marco e benvenuto a Carlo Giovanni.